Seconda parte di Conto alla Rovescia, sono qui nei nostri studi il consigliere regionale Angelo Primiani, buonasera, grazie per aver accettato l'invito, il presidente della Camera di Commercio del Molise Paolo Spina, buonasera a lei, e il giornalista scrittore Paolo De Chiara che ha pubblicato questo libro che ora io vi faccio vedere, Una vita contro la camorra, eccolo qua, è il bel libro di Paolo De Chiara, comunque ce ne parlerà lui perché diciamo è un libro che parla di testimoni, di pentiti, ma soprattutto gli episodi che nulla hanno a che vedere con il vivere civile. Bene, quindi bravo a Paolo De Chiara, la storia vera e scomoda di un testimone di giustizia. Paolo De Chiara ha scritto Una vita contro la camorra che racconta un po' le minacce, le intimidazioni, le pressioni subite dal protagonista che è un dirigente di un'impresa di costruzione che ha avuto il coraggio di sfidare un sistema corrotto e criminale che coinvolgeva non solo i clan camorristici ma anche i vertici dello Stato. È una storia che deve essere portata alla luce perché riguarda soprattutto gli appalti che in questo Paese sono stati dati in affidamento al crimine organizzato, in questo caso alla camorra. Questo soggetto è un semplice testimone di giustizia e vorrei fare una sottolineatura. I testimoni di giustizia sono un'altra cosa dai collaboratori di giustizia. Il collaboratore di giustizia è un ex mafioso che passa dall'altra parte per ridurre la pena sostanzialmente. Il testimone di giustizia è una brava persona, una persona onesta che non ha mai commesso reati, però che ha visto e che ha subito e che hanno coraggio. Ci sono un centinaio di testimoni di giustizia in questo Paese. In questo caso cosa fa questo ex carabiniere ausiliario? Inizia a lavorare per questa azienda, inizia a lavorare per la costruzione di una passerella ciclopedonale per un valore di 16-17 milioni di euro, quindi soldi pubblici che vengono utilizzati per queste costruzioni e si accorge che questa passerella è stata costruita con materiale scadente. Quindi inizia a raccogliere materiale, inizia a registrare conversazioni, inizia a fotografare, inizia a fare il giro delle varie procure. Denuncia costruzioni di cavalcavia, di tratti autostradali e viene anche in Molise presso la procura di Campobasso per denunciare un lavoro presso il carcere di Larino dato in affidamento a un'azienda vicino a un clan di Camorra. Un milione di euro, un appalto per la sostituzione di pannelli fonoassorbenti. Soltanto grazie alla denuncia di questo testimone di giustizia sono stati bloccati i lavori. Ecco, lei naturalmente ha le prove di quello che è accaduto e si assume anche delle responsabilità di quello che dice. Comunque attraverso questo libro lei ha voluto dipingere un quadro dettagliato di un percorso pericoloso in cui sono state evidenziate anche le gravi carenze strutturali che minacciavano e minacciano tuttora la vita dei cittadini. Sì, non è soltanto un libro di denuncia che racconta quello che ha raccontato all'inquirente attraverso prove documentali questo testimone di giustizia, ma è anche una sottolineatura per come vengono trattati i testimoni di giustizia, appunto persone coraggiose in questo paese. E lei si è interessato anche in passato di Lea Garofalo, quindi è stata anche qui a Campobasso. Che è stata qui a Campobasso il 5 maggio del 2009. Il suo libro ha discorso anche tanti consensi. Ha subito un tentativo, l'andrangheta viene a Campobasso per tentare di sequestrare questa donna. Non riuscirà per tutta una serie di circostanze, ma ecco l'anomalia che esiste ancora in questo paese. Lei giustamente ha fatto l'esempio di questa fimmina calabrese che poi sarà massacrata a Milano nel 2009. Lea Garofalo ha tutti gli effetti testimoni di giustizia, perché padre dranghetista ammazzato nel 1975, fratello dranghetista, addirittura il contabile della cosca dei Petilini a Milano, ammazzato nel 2005, Lea Garofalo non ha mai commesso reati, quindi è una testimone di giustizia per lo Stato. Oggi, ufficialmente, Lea Garofalo è una collaboratrice di giustizia. Perché manca la sensibilità nei confronti di queste persone che, ripeto, hanno il coraggio di denunciare il crimine organizzato. Paolo De Chiara è un coraggioso giornalista di inchiesa. Ha scritto questo libro, Una vita contro la camorra, che vi faccio vedere. Un libro da leggere, tutto d'un fiato. Un documento prezioso che getta luce su cosa significa vivere in una terra dominata dalla camorra. Ha avuto qualche segnale, qualche minaccia, lei, nello scrivere sia il libro su Garofalo che questo libro attuale? Allora, a me questo argomento mi appassiona poco. Però quello che posso aggiungere è che quando arrivano i segnali, chiamiamoli così, è un qualcosa di importante. Perché significa che si è sulla buona strada perché si sta toccando quel nervo scoperto. E quindi il nostro mestiere, che è semplicemente quello di informare, di far emergere i fatti, è quello di continuare, proseguire, semplicemente a informare i cittadini, a informare i lettori. Un po' come i testimoni di giustizia, no? Noi abbiamo un problema in questo paese perché esistono i testimoni di giustizia. Perché in questo paese, non in questa regione, in questo paese si denuncia poco. Allora, siccome molti continuano a girare la testa dall'altra parte, noi vediamo e continuiamo anche in un errore, continuiamo anche a vedere questi personaggi come degli eroi, no? Gli eroi non esistono, lo diceva Brecht, il drammaturgo, sventurato quel paese che ha bisogno di eroi. E noi continuiamo a commettere quella, oltre a commemorare in continuazione in questo paese, continuiamo a commettere quell'errore ogni giorno dell'anno. Il 23 maggio ci trasformiamo tutti in Giovanni Falcone, il 19 luglio ci trasformiamo tutti in Paolo Borsellino, poi magari aggiungiamo la frasetta sui social media, no? E ci sciacquettiamo la coscienza. Non è questo, per uscire da queste situazioni bisogna denunciare, perché poi i problemi che in passato sono stati denunciati in Molise, perché si sono creati? Perché non c'è stata quella sensibilizzazione, e mi riferisco ai rifiuti, all'inquinamento, all'ambiente, perché non c'è stata quella sensibilizzazione da parte dei cittadini. Non si denuncia, perciò poi vediamo questi sociali, Falcone non era un eroe, Paolo Borsellino non era, Giancarlo Siani, un collega ammazzato dalla camorra, non era un eroe. Erano semplicemente persone per bene che facevano bene il proprio dovere. Allora dobbiamo uscire da queste situazioni e cominciare anche noi a fare il nostro dovere, soprattutto poi, questo tocca a tutti, all'interno delle cabine elettorali. Parlo di Chiara, il Molise può rimanere un'isola felice o è tema che a breve possono esserci delle infiltrazioni sia dalla Campania che dalla Puglia? Allora a mio avviso le isole felici non esistono da nessuna parte, questa è un'altra tematica che ogni tanto esce e si continua sempre a dibattere su questa terminologia. Il Molise, come tante altre realtà italiane, non è mai stata un'isola felice e le infiltrazioni da 30-40 anni hanno toccato questa regione. Ci sono tantissimi esempi che possiamo fare, il nucleo industriale di Venafro, due aziende in mano a due soggetti legati alla camorra e poi condannati a Napoli per un finanziamento di 5 milioni di euro, traffico di armi, traffico di droga, eccetera, eccetera. I rifiuti tossici che sono stati sversati nel corso degli anni in questa regione, le tante società, prima il Presidente parlava di SRL, ci sono tante società in questa regione, anche a Disernia, ci sono tante SRL, fantasma. Basterebbe andare a bussare ai citofoni di questi gruppi di SRL per accorgersi che non risponde mai a nessuno. Poi con una visura camerale si comprende che queste aziende che hanno avuto e che probabilmente hanno la sede legale Sernia, hanno una sede operativa soprattutto in provincia di Caserta e basterebbe fare una piccola ricerca su internet per vedere tutti i milioni di euro che hanno incassato in tutta Italia queste SRL fantasma. Quindi il problema esiste. E la cosa grave che intorno a questo problema c'è il silenzio. E quindi quando i riflettori non sono accesi su una tematica fondamentale, è allora quando non se ne parla. E allora questi soggetti come l'hanno fatto in passato attraverso metodi che hanno, diciamo, superato, perché alcuni camion passano ancora in questa regione con delle scritte particolari. Ci sono stati incontrolli in passato, a Sesto Campano addirittura arrestarono il proprietario di questa grande azienda in passato. Però se ne parla poco. Il problema è quello che bisogna appunto parlarne. Ecco, faccio un'ultima domanda e comincio proprio da lei, De Chiara. Come vede la politica molisana? Brevemente perché siamo quasi... Allora, come vedo la politica molisana? Negli ultimi anni la politica molisana, a mio avviso, anche per quello che ha prodotto, non ha fatto fino in fondo il proprio dovere. Qualcuno prima citava tematiche legate alla sanità, agli ospedali, ai trasporti, all'istruzione. Il Presidente prima ha anticipato una tematica fondamentale che in questa regione fuggono. Non è che se ne vanno i giovani dal Molise, fuggono dal Molise. La chiamiamo così in maniera molto come lord inglesi, la fuga dei cervelli. Perché i giovani vanno via dal Molise? Perché la politica nel corso degli anni, negli ultimi 20, 30, negli ultimi 10 anni, non ha offerto quello che deve offrire la politica. Che cosa chiede? Inizio Angelo Primiani, grazie a Paolo Spina e a Paolo De Chiara. Grazie a voi. Ecco qua il libro, lo facciamo rivedere perché merita di essere letto. Una vita contro la camorra, anche per il coraggio che ha il collega Paolo De Chiara. Ed ora, dopo qualche minuto di pubblicità, terza parte con l'avvocato tributarista Franco Mancini. A tra poco dunque. Grazie a tutti.